La Regione ha prorogato il termine per la presentazione delle domande del bando dedicato al sostegno dell'imprenditorialità, spostando la scadenza dal 28 giugno alle 12 del 31 ottobre 2024. Lo ha stabilito la Giunta regionale, approvando nell'ultima seduta un'apposita delibera su proposta dell'assessore al lavoro Alessia Rosolene. Il bando a sostegno dell'imprenditorialità agevola la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale per promuovere rafforzamento e rinnovamento del sistema produttivo, incentivando attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto nuove imprese e aspiranti imprenditori che abbiano sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan. La spesa ammissibile, composta da spesa di investimento in misura non inferiore al 70% e spesa corrente in misura non superiore al 30%, non è soggetta ad alcun limite. L'importo massimo del contributo concedibile è di 60.000 euro nel caso in cui il beneficiario realizzi il progetto in 12 mesi ed è pari a 70.000 euro nel caso in cui invece il beneficiario realizzi il progetto in 4 mesi. La selezione delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.